La Ocean Viking, nave della ONG SOS Mediterranea, è entrata al porto di Pozzallo intorno alle 8 dopo una settimana in cui l'equipaggio ha soccorso i migranti in difficoltà a largo della Libia. Diverse operazioni di salvataggio, 550 persone recuperate in mare, tra cui 118 minori. I primi a sbarcare sono state tre donne in stato di gravidanza, un bambino e un ragazzo, trasferiti nelle strutture ospedaliere perché hanno bisogno di controlli più approfonditi. I migranti sono stati sottoposti a test Covid, i minori non accompagnati in prima battuta. Dopo l'esito del tampone, vengono condotti all'hotspot dell'area portuale per l'identificazione. L'iter prevede che tutti, esclusi i minori non accompagnati, siano poi condotti sulla nave azzurra per completare la quarantena. Oltre a Pozzallo, anche Lampedusa è sotto pressione con l'arrivo di sette carrette del mare. 243 le persone sbarcate nelle ultime 24 ore sull'isola.